Gentili telespettatori buona giornata. Per quanto riguarda il meteo la rivelazione di Paolo sotto corona che ci dice quando torneremo a respirare dopo tutto questo caldo. Nel corso di questa settimana ci sarà una vera e propria inversione di tendenza da parte del meteo. Gli esperti sono tutti d'accordo tra poche ore potremmo dire addio al caldo affoso che ha accompagnato questa estate veramente torrida. Paolo sotto corona che è metereologo che appare sulla 7 all'agenzia di stampa di Ennecronos spiega che giovedì ci sarà una forte instabilità al nord con temporali anche molto forti. Premesso che si può parlare di previsioni fino a 5-7 giorni perché poi diventano linee di tendenza nei giorni successivi fino a fine mese ci sarà ancora qualche caso di temporale al nord ma non sembra né esteso né intenso. Poi la profezia su cosa accadrà con il passare delle ore e cosa ci aspetta per questa settimana. Dice così che questa settimana avremmo temperature ancora elevate soprattutto al sud dove per 3-4 giorni le massime si attesteranno ancora sui 35 gradi e il caldo sarà umido specialmente in Sicilia e in Sardegna. Dal fine settimana però proprio nel meridione ci sarà un deciso calo delle temperature mentre al nord ci sarà un leggero aumento. Il sud Italia avrà una temperatura massima sotto i 30 gradi inferiore alla media per il periodo. Questo calo durante la prossima settimana si estenderà un po' anche al centro Italia. Torneremo finalmente a respirare. Ma andiamo a vedere, torniamo a parlare di politica. Il reddito di cittadinanza l'abbiamo visto è stato fatto male, ha permesso tantissime truffe, centinaia di migliaia di truffe e danni dello Stato. Tutti i giorni la Guardia di Finanza ne scopre a centinaia, centinaia. Quindi è un reddito che hanno avuto praticamente tutti i tipi di truffatori, di criminali in Italia. Fatto male, una legge fatta male come è stato fatto male il super bonus. L'intenzione è buona ma la legge è fatta male, vanno rifatte e soprattutto date a realmente chi ha bisogno. Ma Conte, il leader dei 5 Stelle, sapendo che il reddito di cittadinanza è il principale voto di scambio di questo partito politico, vuole addirittura rafforzare il reddito di cittadinanza. I 5 Stelle non demordono e nel programma di governo ne propongono addirittura un modello rafforzato, modello numero 5, Giuditta. E così sul sole 24 ore Conte racconta che cosa vuole fare per il reddito di cittadinanza. Nonostante in passato siano abbondanti i percettori che intascavano l'assegno senza avere alcun diritto, questo malcostume non solo non si è attenuato ma addirittura ha continuato a dilegare in tutto il paese. Prendiamo gli ultimi due mesi giugno e luglio. Sono stati ben 235 abusivi recuperati oltre 2,6 milioni di euro. Di chi si tratta c'è dentro davvero di tutto. Ci sono dentro immigrati arrivati da poco in Italia, falsi poveri che vivono nei campi Rom, delinquenti di ogni risma, anche alcuni detenuti. Quindi nulla di nuovo. Lungo il litorale romano qualche giorno fa sono state sorprese alcune persone a pagare i bagni, gli stabilimenti balneari con i soldi del reddito di cittadinanza. Beh, l'indignazione ormai degli italiani è al massimo. È ormai chiaro ai più che la misura è sbagliato dire che è nata per creare lavoro, non è nata per creare lavoro. I giornali che scrivono che il reddito di cittadinanza nasce per creare lavoro è falsissimo, falsissimo. Il reddito di cittadinanza non può creare lavoro e oggi ancora lo sto leggendo sui giornali. È ormai chiaro ai più che la misura nata per creare lavoro, virgola, no, non è nata per creare lavoro, è nata per dare dei soldi alle persone che non stanno lavorando e per aiutarle a cercare lavoro, lavoro che offrono le aziende. Quindi il reddito di cittadinanza non è un'azienda che aumenta i posti di lavoro, ma ti aiuta, anzi dovrebbe aiutarti a trovare lavoro in maniera più veloce. Non crea lavoro, è sbagliatissimo, l'ho letto oggi su Il Giornale, Il Quotidiano di Berlusconi, che dice infatti ormai è chiaro ai più che la misura nata per creare lavoro non solo nell'uscita di qua e di là. Ma cosa state dicendo? Nata per creare lavoro, che è un'azienda? Ma per favore. Siamo qui, a ridosso delle elezioni, dove i giornali e anche politici ancora raccontano la storia che il reddito di cittadinanza è nato per creare lavoro. Vabbè. Ovviamente non può, e poi questo giornale continua a dire non è riuscito ad abbattere il tasso di disoccupazione. E certo, mica può abbattere la disoccupazione il reddito di cittadinanza, ma cosa dice? Vabbè, insomma, è tremendo, è, in Italia non si sa neanche di quello di cui si sta parlando. Incredibile. Soltanto i 5 Stelle sembrano di non aver capito l'inutilità e i danni creati da come è stata fatta la legge. Ve lo ricordate dal balcone di Palazzo Chigi che gridavano abbiamo abolito la povertà? Ve lo ricordate, no? C'era Di Maio, DJ Fofò, Alfonso Bonafede, beh c'era anche Danilo Toninelli, lo ricordate, quello che si è autodefinito il più grande ministro della storia della Repubblica. Ebbè, non è una barzelletta, erano davvero sul balcone DJ Fofò, Tony e Gigino a dire di avere sconfitto la povertà. Ma loro ci credevano, non era una roba da ridere, non era una gag. Loro realmente credevano di aver sconfitto la povertà che poi è aumentata in Italia. Perché oltretutto il reddito fatto male non va a dare i soldi ai veri poveri ma li dà ai truffatori, ai criminali, perché una famiglia numerosa non riceve il reddito di cittadinanza. Mentre il venditore abusivo di sigarette arrotonda con il reddito di cittadinanza e magari ci va al mare a pagarci il ristorantino sul mare, mentre la famiglia numerosa non ha potuto accedere al reddito di cittadinanza. Chi ha l'ISEE con una casa un po' più grande non riesce ad avere il reddito di cittadinanza e poi arrivano con i pullman dalla Romania per truffare lo Stato italiano. Ecco, ditemi voi se è una roba che può andare avanti una cosa del genere. Deve essere ovviamente riformato, mandato al riformatorio. Ecco, grazie a tutti e arrivederci.